E questa è stata una prova davvero poco convincente. La squadra ha deluso da diversi punti di vista, soprattutto troppi errori. Una prestazione deludente la loro. Dopo aver subito il gol nel primo tempo non hanno dimostrato la capacità di reagire. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Grazie e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.